Tra le misure contenute nel piano socio-economico di emergenza sanitaria Covid varato dalla regione Campania c'è anche la misura del bonus 1 tantum 2000 euro rivolto alle micro imprese. La presidente di Confesercenti Vallo di Diano, Maria Antonietta Quino, ci spiega con precisione e semplicità le caratteristiche di questa misura, i beneficiari e come poterne fare richiesta. Che cos'è questo bonus 1 tantum 2000 euro? È un contributo a fondo perduto pari al valore di 2000 euro che viene erogato alle micro imprese nel settore artigianato, commercio, industria e servizi della regione Campania. Chi sono quindi i destinatari di questa misura? Abbiamo detto micro imprese iscritte al registro imprese delle camere di commercio competenti della regione Campania che abbiano sede operativa in regione Campania e altre condizioni che non abbiano superato un fatturato di 100.000 euro o da ultima dichiarazione dei redditi presentati, o da ultimo bilancio depositato. O qualora si tratta di un'attività che abbia avuto il suo inizio nel 2019, si prendono in considerazione i dati del volume d'affaro del fatturato del 2019. Ancora, possono partecipare quindi tutte queste micro imprese che risultano sospese ai sensi dei vari decreti del Presidente del Consiglio e qui si aggiungono anche ai sensi delle varie ordinanze della regione Campania. Perché dico qui si aggiunge? Perché appena è uscito l'avviso ci siamo subito resi conto, come confesarcenti, che c'erano una serie di punti d'ombra, una serie di attività che non hanno state menzionate, tante altre cose poco chiare. Immediatamente abbiamo fatto una nota in regione, la quale ci ha risposto in maniera positiva dando delle spiegazioni, affermando che bisogna prendere in considerazione insieme alle attività sospese ai sensi dei DPCM 11 marzo e 22 marzo, ma anche bisogna tener conto delle varie ordinanze della regione Campania. Quindi quella tabella indicata dall'avviso è una tabella indicativa, andiamo a verificare caso per caso quello che è successo ad ogni singola attività e ad ogni area geografica della stessa regione Campania. Voglio ricordare che il Vallo di Diano, tanti comuni erano comuni in zona rossa, quindi seppur le attività non sospese non potevano comunque esercitare per delle ordinanze restrittive presiste dalla regione Campania. Detto questo, come si presenta la domanda? La domanda si presenta su una piattaforma telematica della regione Campania a partire dal 20 di aprile fino al 30 di aprile. Noi, voglio ricordare come conve esercenti, qualora qualcuno ravveda la necessità di un nostro supporto, di una nostra consulenza, noi siamo a completa disposizione. Un'altra cosa che voglio ricordare, l'importanza di inoltrare queste domande con la firma digitale del legale rappresentante e non di un intermediario. Qualora la firma digitale non è in proprio possesso, i nostri uffici sono a disposizione anche per l'emissione della firma digitale. Questo per affermare quando la nostra vicinanza, il nostro supporto, la nostra attenzione al territorio e alle piccole e medie imprese del territorio è sempre più forte e sempre più presente. E voglio concludere nel dire che sono sempre più consapevole, sempre più decisa nell'affermare che da questo momento così difficile riusciremo più forte di prima.